Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato oggi una nuova poesia dal titolo Esempi di vita. Spero che dopo la condividerete su tutti i contatti Whatsapp e se non siete ancora iscritti al mio canale Youtube, digitate Savinotesse e attivate la campanellina per le notifiche. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia per evidenziare gli esempi di vita perché a volte preferisco un amico saggio che mi sappia consigliare perché questa vita è un viaggio da saper organizzare e quindi mettere a punto con strategie sapienti, intelligenti e vere. Vorrei un amico appunto sapiente che mi sappia indicare la giusta strada, che a volte abbia una giusta coscienza e mi sappia dire la strada giusta da dover percorrere. Un amico intelligente quindi fa giusta causa per noi perché è buono, educato ed è riverente e ci sa adeguatamente dare un indirizzo giusto da percorrere, quindi una strada retta e vera. Gli esempi di vita sono quindi rari perché a volte ci girano molte persone intorno, però le persone giuste e rare, pacate, calme sono appunto poche e bisogna sapere che ci sono per le scegliere, sono quelle persone tempiste, quelle persone che sanno capire come prenderci per farci rendere di più, per essere esempi di vita e per darci una via saggia, intelligente e vera da seguire. Vi leggo appunto adesso la poesia dal titolo esempio di vita. Preferisco un amico saggio che mi sappia consigliare in questa vita che è un viaggio da saper organizzare. Vorrei un amico sapiente che mi sappia indicare una via vera e cosciente da dover prendere e percorrere. Vorrei un amico intelligente, buon ed educato, riverente, che mi consigli degnamente una via retta e sapiente. Gli esempi di vita sono rari e di gran luce, donano saggezza infinita e nell'animo grande voce. Gli esempi di vita ci sanno illuminare e con dolcezza gioiosa ci sanno insegnare. Grazie.